Toccare a distanza e registrare esperienze tattili per poi riviverle nel tempo. Il progetto remote touch sviluppato dalla Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Ateneo di Siena in cooperazione con la Tokyo University rende possibile per la prima volta questo tipo di esperienze. Abbiamo ritenuto importante sviluppare delle tecnologie che siano estremamente portatili per trasmettere sensazioni di tatto tipo una carezza a un bambino oppure applicazioni di tipo mediche in cui si cerca di rilevare alcuni parametri di funzioni vitali che vengono trasmesse a distanza come il polso o il battito cardiaco o altro ancora. Remote touch è stato selezionato come uno dei 265 progetti più innovativi e meritevoli per la presentazione all'Expo Shanghai 2010. Questo sviluppato da noi e dell'Università di Tokyo è stato selezionato proprio per rappresentare l'Italia dell'innovazione. Professore, a livello di mercato a quali settori può interessare sviluppare questo progetto? Immagino delle applicazioni di riabilitazione dove queste tecnologie servono per monitorare online i progressi che si ottengono con alcune tecniche di riabilitazione ad esempio. Dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Siena per il TGT, Yuri Guerranti.